È una grandissima cosa per me esibirsi davanti a così tante persone. Non vedo l'ora che riapra tutto, veramente. E già mi non si evita anche di stare seguendoci a muoversi veramente e volersi la musica al 100%. Però questa comunque è già una grandissima, grandissima vittoria per me. Ma anche per tutta la cosa che sta succedendo finalmente riusciamo anche a esibirci una campanella finale del momento. Anch'è lì! Ciao! Ma non stai? Tutto bene? No, mi hai fatto bene. Mi hai fatto bene, con lei trolle le mie magliette, perché stiamo in grado, e tra l'altro... Mi spiace? Io no, volevo pensare... SPIACE? facciamo una cosa per ricordare questo momento anche tuo sul palco così io vorrei fare un selfie con tutto il pubblico mettiamo lì il montonato puoi ancora toglierselo lo prendiamo qua questo è fatto apposta ragazzi facciamo una cosa tutti su le mani così rimarrete in questa foto storica ci mettiamo così in modo che si vedano tutti loro chi ce la fa questa foto? ragazzi però su e tutti guardate che mi si vede la foto vado? 3, 2, 1 su Instagram fra un minuto e mezzo anche di complimenti tra l'altro sentiamo di entra parlare di musica nuove prima o poi presto quando ci sarà l'occasione vera io sto scrivendo tantissimo sto lavorando duramente non vedo non vedo la riflessione tanto è lì a DG MnStay grazie a tutti buonasera ciao ciao grazie grazie veramente ciao ragazzi ciao Regine ciao Regine allora ciao